questo è il pollice il più grosso ed è il papa pollice pollice della nostra mano questo è l'indice la mamma delle dita indice indice della nostra mano questo è il medio che sta al centro ed è il fratello ecco il medio ecco il medio della nostra mano la sorella tutta verde l'anulare anulare anulare della nostra mano ecco il mignolo è più piccolo e carino mignolo mignolo è la nostra mano giochiamo di nuovo con le dita pollice, pollice, indice, medio, anulare e mignolo questa è la nostra mano grazie grazie ci sono tante professioni volevo diventare un pompiere un postino e un postino e un dottore e un atleta forte forte c'è un mondo che mi aspetta ma scegliere dovrò oggi diventerò un medico vedrai che il mondo sorprenderà la 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 ci sono tante professioni volevo diventare un musicista trovo dei tamburi e poi e suona 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 più che puoi c'è un mondo che mi aspetta Ma scegliere dovrò Oggi diventerò un insegnante Vedrai che il mondo sorprenderò Oh sì! La 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 Ci sono tante professioni Volevo diventare un astronauta Puoi volare nello spazio Se davvero tanto lo vorrai C'è un mondo che mi aspetta Ma scegliere dovrò Oggi diventerò un meccanico Vedrai che il mondo sorprenderò Oh sì! La 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 Ci sono tante professioni Volevo diventare un calciatore Puoi giocare tutto il giorno Nel campo a rincorrere il pallone C'è un mondo che mi aspetta Ma scegliere dovrò Oggi diventerò un'artista Vedrai che il mondo sorprenderò Oh sì! La 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 Ci sono tante professioni Volevo diventare uno scienziato Per eseguire tanti calcoli E poter rinventare qualcosa C'è un mondo che mi aspetta Ma scegliere dovrò Oggi diventerò un costrittore Vedrai che il mondo sorprenderò Oh sì! La 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 camioncini e macchinine per la strada tutte insieme e di fila girano tutta la città fari, luci e sirene c'è un'allarme qua camicini e macchinine corro a gran velocità il camion da lavoro e la vasca di palle colorate un grande camion sta uscendo dal garage ha un grande cassone ribaltabile e può portare cose molto pesanti o ops o tante palle colorate come queste riempiremo una vasca nel parco giochi eccoci arrivati salve gru hai portato una vasca grande guardate quanti colori il cassone si alza e le palle cadono nella vasca e questo camion betoniera dove sta andando? il tamburo quel cilindro che gira in continuazione è pieno di cemento e girando non lo fa indurire questa base di cemento servirà per tenere fermo uno scivolo ecco che la gru lo sta posizionando stiamo preparando tanti nuovi giochi il camion dei pompieri va dritto per la sua strada ha un cannone ad acqua sul tetto con l'acqua può spegnere gli incendi ma può anche pulire il parco giochi dalla spazzatura oppure innappiare gli alberi è il momento di usare questi bellissimi giochi è il momento di giocare il camion di sacca ha portato tre macchinine colorate gialla blu verde buon divertimento buon divertimento prima lo scivolo poi un tuffo nella vasca di palline alla prossima puntata ciao leo junior dipinge il carro attrezzi siamo nel parco giochi ed ecco che arriva leo junior oh guardate un camion tutto bianco ma che cos'è esattamente leo? ha una gru e un gancio si tratta di un carro attrezzi vogliamo dipingerlo? ma che cos'è esattamente leo? ed ecco le vernici leo leo sei pronto? leo sei pronto? sai quali colori ci servono? arancione arancione rosso grigio 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 nero nero celeste anche il verde? prendiamolo cominciamo a dipingere? da quale colore inizierai? il nero per i pneumatici e il telaio poi l'arancione per la carrozzeria e la gru è bellissimo continuiamo? grigio? grigio? rosso? oh hai anche l'azzurro verde? leo sei sicuro? sedili e volante di solito sono neri togliamo il verde ecco via il verde verde è nero pronto adesso il carro attrezzi può andare a lavorare che cosa intende fare oggi il carro attrezzi? c'è un camioncino rotto va portato in officina ben lavoro addio carro attrezzi noi ci vediamo presto leo ciao ciao il negozio di lifty e le macchinine colorate un camion bisarca sta trasportando degli speciali go kart tutti di un grigio pallido dove sarà diretto? vediamo al negozio di lifty ciao lifty c'è qualcosa di nuovo per te sorpreso? tutti i go kart sul camion bisarca sono grigi e già devono essere verniciati hai tanta vernice da venderci per tutti questi go kart hai tanta vernice da venderci un contenitore di vernice rossa quale go kart vuole diventare rosso? il numero uno e lui è pronto lifty quale altra vernice hai? vernici vernice arancione e si fa avanti il numero due lifty ci sono molti go kart da verniciare hai abbastanza colori? vediamo verde e giallo avanti il numero tre e il numero quattro pronti i go kart 5 e 6 sono impazienti e vanno alla postazione in attesa dei loro colori quali saranno? blu e viola sei go kart e sei colori di vernici grazie lifty facciamo i conti serve un registratore di cassa quanto costa quanto costa la vernice che abbiamo scelto? un soldo due tre quattro cinque sei sei soldi eccoli saranno tutti contiamoli uno due tre quattro cinque e sei sono tutti evviva evviva sì ma chi ci aiuterà a dipingere i go kart? un bel problema ben arrivato leo puoi aiutarci a verniciare i go kart? sei un vero trasformista rosso giallo viola arancione verde e blu che meraviglia tutti sul camion bisarca e via sulla pista da corsa grazie grazie lifty e grazie leo alla prossima puntata buttotta al negozio del muletto lifty Grazie a tutti